Una croce in legno per salutare il piccolo di due anni morto annegato ieri sera a Torre del Greco, in provincia di Napoli. A portarla sulla spiaggia di località La Scala, dove è stato ricoperato privo di vita il corpo del piccolo, una mano ignota che ha realizzato la croce in modo artigianale. Sulla sabbia ancora ben visibili i rilievi che i carabinieri hanno effettuato durante la notte, prima che l'area interessata dalla tragedia avvenuta in mare venisse pusta sotto sequestro. Il fatto è stato raccontato dalle persone presenti, che hanno spiegato di aver bloccato una donna che minacciava di suicidarsi, poco dopo aver notato il corpo del piccolo in mare. Successivamente si è appurato che la donna, che era in evidente stato di agitazione, è la mamma del bambino. Alcune persone, in attesa dell'arrivo dei carabinieri della polizia, si sono tuffate in mare per recuperare il corpicino che è stato riportato a riva, ma tutti i tentativi di rianimarlo sono risultati vani. Una tragedia difficile da spiegare che è oggetto di un'inchiesta della procura di Torre annunziata, che attraverso il magistrato di turno proverà a ricostruire gli ultimi momenti prima della morte del piccolo e soprattutto i motivi che hanno spinto una madre a togliere la vita alla sua creatura. Purtroppo già ero troppo tardi, perché si parlava di ieri sera verso le 10, i bimbo lo hanno trovato morto nell'acqua, la mamma l'hanno trovata a riva, è una cosa brutta.